Allora vi invito a collaborare con l'Istat che non è una cosa per la quale c'è un controllo particolare, non è un organo di polizia né giudiziaria né di natura fiscale, assolutamente invece è un contributo che è data per avere la dimensione, la ricognizione di quello che è la realtà italiana, quindi si andrà presso le famiglie, verranno a parlarvi, a chiedervi, vi daranno alcune indicazioni, risponderete rispetto a questionari che verranno fatti, magari formulati o sul piano del computo di natura grammaticale o invece in un elemento più discorsivo parlando con loro, quindi accettate di buon grado, offrite un bel caffè come dalle mie parti sanno fare e buona vita a tutti quanti voi!